Ciao a tutti, mi farebbe piacere analizzare qualche parola con voi. La prima parola è grazie. Immaginatevi che la vita è come una vecchina, come una nonnina che riversa del latte. Se voi non ringraziate lei smetterà di versarvelo, è normale. Se voi dite grazie, forse le continuerà. Penso che grazie sia fondamentale, perché la riconoscenza è alla base di qualsiasi relazione. L'unico rapporto reale che c'è tra la vita e la felicità è proprio la gratitudine. Quindi non dovete aspettare tantissimo, grazie dovete dirlo quando volete. Potete dirlo quando volete, come se fosse un silenzio chiassoso, come se fosse uno simolo continuo, come se fosse un'urgenza impellente da rimandare sempre. Però allo stesso tempo è fondamentale ricordarsela. Dovete accorgervi di dover ringraziare, perché solo in questo modo potrete godere con pienezza di ogni cosa che vi accade. Pensateci, anche perché magari vi tanto vi va di ringraziare qualcuno che magari poi non c'è più e non sapete come fare. Ringraziate oggi, partite da voi stessi e andate a chi volete. Ma subito, adesso, spegnete il suo telefono e andate a ringraziare qualcuno. Ah, grazie.